Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio carale EquinoVelox e oggi sono qui per portarvi un nuovo video su quello ZT4 Remastered come molti di voi sapranno tempo fa sono stata cintena di nuove armi su questo gioco tra l'altro molte le ho già mostrate ma ho trascurato una pistola e delle armi corpo a corpo bene oggi voglio andarmi a focalizzare su una di queste armi corpo a corpo che voglio provare con voi non perché è un'arma corpo a corpo a caso ma perché è un'arma corpo a corpo che abbiamo già visto ma soprattutto che abbiamo amato su quello di Black Ops 3 e quindi mi sembra giusto ecco andarla a provare sto parlando di questa ragazzi un'arma che guardandola sicuramente capirete a cosa è ispirata ovvero al leggendario e inimitabile BuzzGut di Black Ops 3 perché sì quest'arma anche se si chiama seghetato è il BuzzGut cioè è il BuzzGut identica spiccicato uguale proprio non cambia nulla cioè ovviamente è un po' diverso perché il BuzzGut è un bastone in legno insomma è fatta maniera diversa ma l'idea è quella cioè sempre questa specie di cerchio seghetato insomma l'arma è questa e quindi ho detto perché non provarla visto che il BuzzGut ormai è stato eletta migliore arma corpo a corpo del 2016 mi sembra corretto andare a provare questa arma che si ispira e vedere se ci sono un minimo di somiglianza in partita anche perché ho fatto una kill con questa arma che non ho idea se effettivamente si è avorda quindi cerco una partita la proviamo e andiamo a vedere anche se so già la risposta perché quest'arma non sarà mai a livello del BuzzGut perché qua le armi corpo a corpo fanno cagare però la proviamo e vediamo effettivamente se c'è qualche somiglianza o se è magari più forte delle altre armi corpo a corpo non lo so cerchiamo una partita e la proviamo a tra poco ok ragazzi ci stiamo siamo su Vacant DCT e sto urlando perché ci ho messo un ora no esattamente ci ho messo 40 minuti per trovare una mappa che non fosse Pipeline oggi è il giorno di Pipeline io devo fare un video con un cazzo di arma corpo a corpo che è già inutilizzabile su questo gioco ed è solo Pipeline Pipeline capite? Pipeline la mappa probabilmente più del cazzo per giocare con le armi corpo a corpo che possa esistere in tutta la storia delle mappe di God 4 vabbè siamo forti a usare il nostro seghettato un nome abbastanza italianizzato cioè ho il leggero presentimento che il nome originale non fosse seghettato ma che sia stato tradotto un po' male non lo so questo presentimento comunque questo è il nostro fantastico seghettato è identico al BuzzGut come potete ben vedere e vai! prima morte yeah! subito e andiamo subito all'attacco a caccia di nemici e vai! sono già morto due volte sì! vi giuro ragazzi sto bestemmiando oggi oggi non avete idea del livello di incazzatura che io ho in corpo prima di queste apparite ci sono stati vari tentativi su Pipeline ovviamente sono stati scartati perché facevo 3 kill visto che la mappa è enorme ed ero io che correvo così incontro ai nemici che mi uccidevano tutta la partita 0-3 il nemico è già 3 io non ho ancora trovato nessuno se non quello in inizio partita in questa metamappa non c'è nessuno a quanto vale va bene ok probabilmente sto sbagliando qualcosa dai ammazzami col tuo bel Barret fari in culo vai oh una kill ah non mi hai fatto vedere l'animazione di quest'arma ragazzi guardate che bella oh 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 sì ammazzami ti prego ammazzami no ok si sporca di sangue quando quando uccidi le persone sapete così ti dà più la sensazione di dai dai ammazzami col tuo pompa dai quello allora ora vi simulo quello che ha appena fatto quello che mi ha ucciso e mi ha ucciso così è andato contro il muro ha sbattuto la testa si è girato e poi in quel momento ci sono comparso io capite perché non uso l'animo corpo a corpo su questo gioco per questo per questo perché su questo gioco anche un dog con il pad in mano riesce a uccidere guarda guarda questo qua mori quanto godo chiunque ti può uccidere con l'animo corpo a corpo su questo gioco perché non puoi scivolare sei lento e prendi un colpo prima di morire quindi tu devi fare 400 metri per uccidere uno e lui chiaramente ti spara e muori e quindi ti incazzi perché ti senti inutile pensi di essere inutile e di non poter fare nulla per evitare la morte quindi ti incazzi guarda che cazzo bullisciare e preme il grilletto a casa e mi ammazza per esempio oh muori va mamma mia devo andare via da questa zona aperta andiamo nella zona chiuda perché qua qua c'è uno raga vai dai l'universo di me è bravo eh vabbè c'è sempre pick e hunter col suo pompa una piccola canaglia la canaglia di pick e hunter è morto sto tipo qua ovviamente se devo fare la kill io il nemico morirà sempre perderò raga ve lo inizio già a dire diventate già a entrare in quest'ottica ma veramente corpo a corpo su questo gioco è male è male assoluto cioè vabbè bullisciare preme a cazzo di cane fai collateral e uno guarda questo col pompa è la seconda volta che spara a caso così collateral kill collateral siamo quarti ragazzi mi piace subito 3 contro avversari del genere avrei già vinto probabilmente mamma mia andiamo qua su questo gioco giocare con le armi corpo a corpo è veramente il male comunque questa versione tarocca del buzz cut veramente non è nemmeno un un pelo di vabbè dai basta però ragazzi dai fate ridere un attimo i primi 5 minuti dopo poi rompete un po' il cazzo stare là dietro fermi neanche un pelo di pene di cane del buzz cut ragazzi guarda guarda pechi come si studia bene le giocate guardalo non si sforza nemmeno di muovere la visuale dice vabbè tanto se mi devono passare davanti mi passano aspetto che passino intanto con una mano mangio con l'altra sparo se mi passano davanti questo mi ha un po' rotto il cazzo Gesù Gesù aiutami ti prego perché qua perché ho preso quest'arma è stato un raptus ora la rimetto via scudate tipo è stato un raptus di prendere un'arma ma no non ha senso guarda piccante questo video anche se faccio 10.50 lo carico perché questa è la cartolina di code 4 chi non ha code 4 remaster e pensa di comprarlo questo deve vedere pechi deve vedere capisci questo è il player medio di code 4 una persona sola che decide di sfogare la sua rabbia su code 4 dice ora vado lì e mi diverto e sfogo tutto quello che mi hanno fatto di male nella mia vita la sfogo su code 4 con un fucile a pompa in un cesso virtuale guardalo pechi guardalo pechi cazzo mamma mia quanto mi sto incazzando vi giuro è un'ora che cerco di fare una parità su questo cazzo di gioco ma niente le persone me lo impediscono guardalo Raimondo con la y guardalo Raimondo eh si punta all'Europa e Raimondo quella y si punta al fucile la y e una cartonina per andare a giocare in Europa al prossimo mamma mia mamma mia ragazzi perché lo sto facendo chi mi ha fatto fare a giocare a code 4 ditemelo scrivete i miei commenti secondo voi chi me l'ha fatto fare dai satana mi ha convinto secondo me a giocare a code 4 non lo so perché ad questo punto non so nemmeno io probabilmente qualcuno ha preso il controllo del mio corpo perché qua è masochismo capito mi sono di un esorcista mi sto facendo del male da solo devi morire cazzo pechi dammi il tuo cazzo di pompa pechi dov'è il tuo cazzo di pompa pechi vabbè morale della favola il buzz cut su code 4 vale più o meno quanto fatemi pensare non lo so fatemi trovare un giusto paragone immaginate il buzz cut come la pizza napoletana invece il buzz cut di code 4 come la pizza surgelata che ti possono vendere in Corea non lo so è la prima cosa che mi viene in mente più o meno quello è il paragone 14-18 per lui vai Bullishay è evitatissima questa vittoria morale della favola non prendete più questo buzz cut compratevi tutt'altro piuttosto vendete le chiavi e compratevi un panino piuttosto non lo so vabbè bella ragazzi è stato un video molto molto divertente tanto che sto sudando da quanto sono divertito buona serata è bella ciao 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 ciao